Ben ritrovati a questo nuovo aggiornamento meteo. Anche giovedì dovremo fare i conti con un po' di piogge sparse al centro nord a causa di questo vortice di bassa pressione. Infatti se diamo uno sguardo alla nostra grafica delle temperature massime possiamo osservare che avremo temperature più fresche sulle regioni settentrionali, temperature più miti invece nel resto d'Italia con punte di 25 gradi al sud. Ma adesso diamo uno sguardo alla previsione nel dettaglio. Ebbene, giovedì avremo piogge sparse intermittenti su molte regioni del centro nord con nuove nevicate a quote alte sull'arco alpino, dunque al di sopra dei 1800 metri di quota, nuvole sparse su gran parte del paese con le maggiori schiarite soprattutto sulle regioni meridionali. Poi finalmente venerdì avremo un miglioramento del tempo al nord grazie all'alta pressione che tornerà a proteggere gran parte d'Italia. Tutti i dettagli li trovate come sempre sul nostro sito web www.meteo.it oppure potete scaricare la nostra applicazione gratuita.